ciao a tutti ragazzi eccomi di nuovo qui con un altro video perché prima ero un po di fretta e non ho fatto in tempo a registrarlo quindi lo registro adesso allora voglio farvi siccome da oggi è entrato in vigore il nuovo album di brochet voglio farvi lo sfoglio veloce di questo album allora l'album in questione è questo come vedete la copertina c'è tutta la nuova linea monoi quindi vedremo insieme le principali offerte di questo catalogo e questo è in vigore da oggi fino al 25 di maggio quindi avete tutto il tempo per approfittarne allora la prima offerta appunto che c'è in questo album è questa qui acquistando 20 euro in prodotti monoi ricevete in omaggio questa bellissima trousse porta occhiali questa qua e questi appunto sono i prodotti monoi che possono essere acquistati quindi qui abbiamo sempre la linea monoi con altri due prodotti per il corpo e per i capelli qui continua sempre la linea monoi abbiamo anche questi altri prodotti questi qua e questi sono bagno doccia e questo qui è il profumo a monoi sempre poi qui inizia un'altra promozione fantastica anche questa la promozione sui detergenti per il viso specifico allora potete acquistare due detergenti lo potete leggere qua su a 9 euro e 95 quindi qui abbiamo quelli alla camomilla con la crema detergente appunto e l'acqua micellare potete fare l'abbinamento che più preferite qui abbiamo la sebo vegetal i vari detergenti poi qua abbiamo la lozione purificante della sebo pure vegetal con la crema detergente anche questo è un altro abbinamento che potete benissimo fare poi abbiamo la idra vegetal con il tonico l'acqua micellare gel detergente e il latte detergente quindi anche qui avete veramente da scegliere quello che preferite e qui arriviamo al viso specifico però qui non ci sono particolari diciamo promozioni sono le linee classiche che ci sono sempre in ogni album quindi non mi dilungo più di tanto questa è la idra vegetal quella che ho fatto vedere ora questa qui è la sebo vegetal questa verde quest'altra è la sebo pure vegetal e questa è la sensitive camomille questa qua su questi qui sono i prodotti per la barba da uomo di qua c'è sempre la sensitive camomille con tutti i vari trattamenti questa qui è la linea alla camomilla quella vecchia che è rimasto il gel detergente il detergente più tonico e la crema viso e corpo con le spugnette con jack qua abbiamo i nostri struccanti con la nostra amatissima bb cream poi andando avanti abbiamo viso antietà questo qui inizia la parte diciamo dei set allora qui abbiamo il set come vedete della anti age global e questo comprende la crema antietà sublimante da giorno e il trattamento illuminante occhi più questa fantastica pochette che in insieme al set diciamo e questo set costa 39 euro e 95 come potete vedere da qua giù e così per tutti e più in più in regalo acquistando questo se il set avete due campioncini di crema della stessa linea quindi anche questa mi sembra un'ottima promozione poi qui abbiamo tutta la linea anti age global vedete tutti i trattamenti appunto creme comprese qua lo stesso abbiamo la elixir geness con tutte le creme trattamenti e qui abbiamo lo stesso crema giorno e contorno occhi con la pochette più la possibilità di ricevere in omaggio due campioncini quindi anche questo ottimo acquisto qui uguale tutti i trattamenti dell'elixir geness qui inizia la nuova linea lifting vegetal questa qui con la crema e i trattamenti e qui sempre il solito set con la crema giorno e il contorno occhi la pochette e sempre la possibilità anche qui di ricevere due campioncini in omaggio acquistando il set sempre poi andando avanti abbiamo la serum vegetale questa qui quella rossa che è quella anti età sempre e qui il solito set crema giorno contorno occhi pochette e campioncini in regalo questa è la rich cream con il set sempre uguale e poi qui abbiamo tutti i vari trattamenti della rich cream e passiamo adesso al questi qui che sono i trattamenti corpo allora qui abbiamo non ci sono particolari promozioni quindi non mi dilungo più di tanto qui ci sono i nostri creme anticellulite che sono sempre nei cataloghi qui abbiamo i nostri dimagranti questi qui poi abbiamo trattamenti corpo abbiamo il lifting seno e latte idratante rassodante questi qua qui abbiamo il trattamento il l'esfoliante corpo l'albicocca il gel sotto la doccia e l'olio doccia questi qui che non ci sono particolari promozioni questa è la nuova linea alla mamelis bagno doccia e crema doccia senza schiuma qua giù abbiamo i nostri deodoranti questi ci sono sempre qui abbiamo i gel quello fresco gambe leggere e la mousse anti ricrescita anche questi ci sono quasi sempre qui abbiamo tutte le varie creme corpo c'è questa qui per le pelli secche queste qua questa qui all'aloe e questa nutrizione poi qui ci sono tutte le creme per i piedi come potete vedere qua ci sono le creme per le mani invece e qui iniziano i trattamenti per i capelli anche qui non ci sono particolari promozioni ci sono le nostre maschere che sono tutte queste poi abbiamo la linea nutrizione eccola qua shampoo balsamo e maschera qua abbiamo quella riparazione con il siero antirottura e l'olio per i capelli questa qui è quella anti inquinamento anti pollution sempre balsamo shampoo e aceto da risciacco in questo caso qui inizia un'altra fantastica promozione che è quella per quanto riguarda i solari allora qui acquistando 30 euro in prodotti solari riceverete queste due bellissime borse diciamo c'è la borsa mare che è questa qui a righe bellissima e la truce quindi acquistando 30 euro in prodotti solari appunto ricevete questi due kit diciamo quindi abbiamo tutti i nostri solari vedete qui ci sono rassicurati poi ci sono questi è proprio un inserto che ci dice che questa promozione è valida per questi solari e questi qua poi qui ci sono sempre continua sempre la linea capelli qui abbiamo quella purezza quello antiforfora vedete lo shampoo antiforfora qui ci sono il nostro shampoo volume shampoo balsamo e spray quello anti caduta qui abbiamo quello per la brillantezza dei capelli questa qui questo qui è quello pericolo per i capelli colorati qui abbiamo i nostri sciampi per i riflessi qui abbiamo quelli delicati per anche per i bambini questo qua giù è quello i love my planet con anche quello concentrato per cui viene piantato un albero ogni volta che si acquista e qui iniziano i trattamenti benessere questi qui con la crema mani la saponetta l'acqua profumata il bagno schiuma il latte corpo quindi tutti uguali così sono questi e qui anche qui diciamo che non ci sono particolari promozioni questo qui è alla vaniglia tutto il tutti i prodotti alla vaniglia questo qui al mango e coriandolo anche qui ci sono tutte le linee c'è la saponetta poi abbiamo questo qui è al lampone di qua c'è quello all'argan vedete e poi qui c'è quello all'oliva questo è quello alla mandorla questo qui è quello al fiore di loto di qua abbiamo melograno e tiaree questi due qui poi troviamo di qua troviamo invece bagno schiuma che diciamo non hanno abbinamenti diciamo e sono questo qui che è quello al fiore di cotone e mimosa questo è quello alla magnolia questo è quello alla fresca e questo è quello al pompelmo e qua ci sono i nostri amatissimi balsami labbra che sono sempre presenti in tutti gli album adesso passiamo alla sezione profumi donna questi qui sono i nostri profumi anche qui non ci sono particolari promozioni diciamo abbiamo questi qui della all fresh questi che sono quelli nuovi qui ci sono i profumi da uomo anche questo qui che è quello nuovo che è buonissimo poi qui c'è un'altra promozione che sono sul per quanto riguarda le matite occhi e le matite labbra quindi acquistano potete acquistarne due a 12 euro e 95 quindi matita occhi più matita labbra a 12 euro e 95 qui abbiamo i nostri rossetti che anche questi sono in promozione al 41 per cento di sconto quindi costano solo 9 euro e 95 in questo album tutti i vari tipi le varie tipologie di rossetti anche quelli matte sono in promozione questi qui lo stesso sono tutti a 9 euro e 95 non so se si riesce a vedere bene qui abbiamo i nostri mascara pinzette eccetera ma la matita per le sopracciglia poi ci sono gli eyeliner la matita qui ci sono i nostri matitoni gli ombretti qui sempre gli ombretti tutti i colori qui ci sono i mascara il feel stronger che nell'album precedente era in sconto poi abbiamo i nostri smalti con i vari trattamenti acetoni eccetera i pennelli questi qua poi abbiamo i nostri fondotinta il nuovo correttore questo qui il nuovo correttore che è uscito in album 5 i fondotinta anche qui non ci sono particolari promozioni sono sempre gli stessi questo è quello matt qui abbiamo fard e cipria e qui ci sono i nuovi prodotti per il trucco questi sono stick illuminanti e il duo illuminante che ha cambiato come vedete pecc quindi come potete vedere da qui questo è il duo illuminante questi sono gli stick illuminanti e qui in copertina appunto abbiamo un altro duo illuminante terra abbronzante questa è che che il sconto del 40 per cento lo potete vedere da qui e costa solo 11 euro e 95 quindi bene ragazzi io per quanto mi riguarda con il video ho terminato allora mi raccomando se vi piace vi è piaciuto questo video mettetemi un bel like lasciatemi un commento e vi ricordo che se volete anche voi entrare a far parte di questa fantastica azienda mi potete scrivere anche qui sotto nei commenti e vi spiegherò come fare io vi saluto vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao